Che libro mi consigli di leggere per la crescita personale? Ciao, io sono Jacopo e questo è Economia Polpette. Oggi voglio proporvi altri due libri e voglio proporvi due libri che mi sono stati molto utili, devo dire. Uno mi è stato proposto al lavoro e un altro invece è stato proposto da una di voi, da Lara, che è un'ascoltatrice che me ne ha parlato in una delle nostre conversazioni che abbiamo avuto. Mi ha parlato di questo libro, me lo sono comprato e me lo sono letto appena comprato seduta a stante, ovviamente in formato Kindle. Bene, di cosa parlano questi due libri? Il primo parla del sense of purpose, del purpose, purtroppo è una parola inglese che mi trovo difficile da tradurre, che trovo difficile da tradurre e forse la traduzione migliore è ragion d'essere. Sostanzialmente è il motivo per cui viviamo, il motivo per cui ci alziamo alla mattina, il motivo per cui vogliamo fare le cose e siamo motivati a fare le cose. Ed è, secondo me, fondamentale sapere qual è il nostro motivo di vivere e cosa ci motiva, perché siamo molto più produttivi quando siamo motivati. E questo libro è un libricino, che ora vi dico il nome, di una centinaia di pagine con le parole scritte da caratteri cubitali, sono più domande che un libro vero e proprio, è una serie di domande e come rispondere a quelle domande con altre domande, e disegni per spiegarlo. Quindi, anche se non sapete l'inglese, perché sì, è solo in inglese questo libro, non è stato ancora tradotto in italiano, è un libro molto facile da leggere e si usano anche molti disegni. Quindi, anche se non sapete l'inglese, ci sono anche molti disegni per spiegare i concetti. Sembra un libro fatto per bambini, invece per adulti. Perché forse i bambini, quando si è in fase della crescita, si ha molto di più un senso del purpose, quindi un senso della ragione d'essere che abbiamo, e quando si cresce la si perde. E questo libro, secondo me, è fatto benissimo, perché ci riporta un po' a quel periodo della nostra vita, e ci aiuta da adulti a ricordarci perché facciamo le cose, perché ci svegliamo alla mattina, dove cavolo è che vogliamo andare? Ecco, quel libro io l'ho amato, mi è servito tantissimo anche nel mio cambio di carriera, e si chiama A Pocket Guide to Purpose. Non so se si legga bene. Comunque, A Pocket Guide to Purpose vuol dire una guida, pocket è la tasca, quindi una guida attascabile per il senso della vita, per la ragione d'essere, per il purpose. Che, secondo me, è una delle cose fondamentali da sapere nella propria vita, a sapere perché vogliamo andare avanti. Il secondo libro, invece, aiuta a gestire le situazioni di crisi. E cosa c'è di meglio in questo periodo in cui la crisi è ovunque ed è pandemica, già in tutto il mondo, e colpisce tutto, non solo l'economia, ma anche la nostra vita personale, e tutto si sta scombussolando. Quanto bene sarebbe avere un modo, un metodo, un modo anche di vedere le cose che ci aiuti a gestire le crisi e quando le cose cambiano, perché è una cosa molto difficile per gli esseri umani gestire le crisi e gestire il cambiamento. Ecco, questo libro è utilissimo per capire e gestire il cambiamento, e si chiama Chi ha spostato il mio formaggio? Perché? Perché qualcuno ha spostato il formaggio e questo cambiamento ha scombussolato completamente la vita. Ed è importantissimo capire qual è il formaggio della nostra vita che ci è stato spostato e come reagire e gestire la situazione quando ci viene spostato il formaggio. Ecco, questa è una storia molto semplice, quasi banale per ragazzi, però molto molto, come si dice, profonda e molto molto utile. Di fatti è utilizzatissimo dei manager, tutti hanno letto questo libro. Probabilmente l'avete anche già letto, ma per chi non l'ha letto ve lo straconsiglio. È molto utile per la gestione veramente dei cambiamenti e delle crisi. Ed è una cosa, il cambiamento in particolare, che è all'ordine del giorno. Nel 2000, dal 2000 in poi, per tutta la mia vita, per noi millennials, e penso anche per le generazioni future, il cambiamento e il non vivere una vita statica sia all'ordine del giorno. E questo libro aiuta molto gli esseri umani a gestire il cambiamento, perché noi esseri umani non siamo abituati e soffriamo al cambiamento. Stiamo bene quando le cose sono statiche, ma ovviamente non è così. Cioè, la vita non è così. Ed è bello perché c'è il confronto appunto fra i topi e gli esseri umani, e come gli animali affrontino il cambiamento in maniera molto diversa dagli esseri umani. Ed è una cosa che ho amato, perché è una cosa che sto studiando anche in psicologia, come animali ed esseri umani agiscono in maniera molto diversa rispetto al cambiamento, e quante seghe mentali in più ci facciamo noi che gli animali non si fanno. Bene, leggetevi questo libro utilissimo. Ottimo, questi erano i due libri di questa settimana. Farò altri video su altri libri. Ne ho in mente un bel po', ma non ho ancora deciso quali dire la prossima volta, quindi è ancora segreto. Ma se siete interessati a avere altri libri curiosi da leggere, e vi piacciono quelli che vi ho consigliato non solo oggi, ma anche nelle puntate precedenti, continuate a seguirmi e farò comunque un video almeno a settimana in cui consiglio dei libri. Ne ho letti veramente tanti nella mia vita. Bene, grazie mille per avermi ascoltato, grazie mille a chi ha guardato i video precedenti, a chi sta comprando anche i libri che vi sto consigliando, e me lo sta dicendo e si sta trovando bene, e vi prego di dirmi anche se vi piacciono i libri che vi sto consigliando, se non vi piacciono, se vi hanno cambiato la vita, se non vi è cambiato assolutamente niente, ci tengo veramente, mi fa piacere, se vi hanno aiutato molto. Mi dispiace se non l'hanno fatto, ma è bene anche per me saperlo. Ottimo. Cosa voglio dire? Continuate a seguirmi anche nel podcast, oltre che ai video. Questi video li caricherò anche su YouTube, quindi se volete, potete trovare questi video su YouTube, che è più facile da consultare rispetto a vederli su Instagram. e ho un profilo che si chiama Sir Jacopo da Londra, ma penso che gli cambierò il nome e gli metterò con le polpette. Non ho ancora deciso se creare uno nuovo o fare questo, ma vabbè, quando uscirà questo video, probabilmente i prossimi avrò trovato, avrò un'idea, e se mi aiutate in questo, anche grazie mille. Detto ciò, iscrivetevi al gruppo Telegram, continuate a seguirmi, mandatemi feedback, a me fanno solo che piacere, iscrivetevi, a me fa piacere anche rispondervi. Noi ci risentiamo al prossimo video, e alla prossima puntata. Comunque avete tantissimi modi per mettervi in contatto con me e anche ascoltare quello che dico. Quindi grazie mille per farlo e alla prossima. Ciao da Jacopo.